Totti diventa questa sera giocatore con più anni a segnare il Champions League. Non è un caso, perché lo voglio dire con grande chiarezza, questo gol segnato a 38 anni in contropiede nella casa del Manchester City, la squadra che ha vinto in Inghilterra, di esterno destro, facendo il cucchiaio al portiere, dimostra una cosa. Francesco Totti è il più forte giocatore italiano di tutti i testi. Fai Totti, si guardi, la gara! 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 Totti! Totti! Doffietta di Francesco Totti, il bareggio della Roma al sessantaquattresimo minuto. la doppietta di Francesco Totti e la Roma ritorna sul livello del mare. La doppietta di Francesco Totti e la Roma ritorna sul livello del mare di Francesco Totti e la Roma ritorna sul livello del mare. Il capitano, il pareggio della Roma con Francesco Totti e la Schiava e trova in corda il pareggio, 1-1, che giocata, tutto in verticale, il capitano!